Una famiglia deve rimanere unita nonostante tutto. Ho sopportato le sue violenze fino a oggi per non dividere la famiglia. Mia figlia era in camera sua e non ha visto niente. Dormivano, non hanno sentito le nostre urla. Se io scelgo di sottrarmi alla violenza, chi proteggerà i miei figli? Non volevo dire al servizio sociale che mi picchiava, per paura di perdere mia figlia. Non avevo un lavoro, non avevo dei risparmi. Come avrei fatto ad occuparmi di loro? Su 100.000 minorenni maltrattati e maltrattate in carico ai servizi sociali, il 19% sono vittime di violenza assistita. Questo significa che uno, una su cinque, è testimone di violenza intrafamiliare. La violenza assistita è la seconda forma di maltrattamento più diffusa in Italia. Nella maggioranza dei casi, la violenza intrafamiliare è agita da uomini che sono anche padri, è subita da donne che sono anche madri. Il servizio sociale ha il compito di tutelare dalla violenza subita a te, i tuoi figli, le tue figlie. Sappiamo che quando c'è violenza, la responsabilità è sempre di chi la compie e mai di chi la subisce. Possiamo costruire insieme a te, ai tuoi figli, alle tue figlie, un progetto di sostegno per uscire dalla violenza. Sappiamo quanto è difficile essere genitore che subisce violenza. Siamo professioniste della cura, ti possiamo accompagnare in questo percorso puntando sulle tue capacità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.